Buongiorno a tutti, allora proseguiamo con i segni zodiacali, oggi vediamo, cioè oggi in realtà ho appena girato il video dei segni del capricorno, ma adesso vediamo cosa succederà nel 2023 per gli amici dell'acquario, mio marito è acquario, quindi sono molto curiosa di vedere il 2023, insomma che cosa gli porterà. Ovviamente è una stesa generale, quindi insomma bisogna prendere un po' con le pinze quello che vi dirò oggi, però sono convinta che sicuramente alcune cose si potranno applicare, magari non tutte, ma alcune sì. Allora, come mazzo sto utilizzando i tarocchi del dolce crepuscolo, questi qua, perché mi piace pensare al 2022 come un anno che sta tramontando per fare spazio appunto all'alba del 2023. Andiamo a vedere una mini ruota dell'anno, poi ho qua di fianco quattro mazio oracolo, ho anche i charms e quindi insomma sarà una stesa sicuramente completa. Quindi andiamo a estrarre le sei carte per l'acquario nel 2023. L'acquario nel 2023. Come andrà l'acquario nel 2023. Energie per l'acquario nel 2023. Ovviamente potete saltare questa parte, io però ci tengo insomma a fare le cose fatte bene, a vedere che le carte ve le estraggo in diretta. Allora, acquario nel 2023. Un'acquario nel 2023. Un'acquario nel 2023. Un'acquario nel 2023. Ok, direi che ce le abbiamo. Allora, energia di gennaio e febbraio. Uh, asso di spade, meraviglioso. Kill Bill. Mi ricordo sempre, non so perché. Sarà la posizione della spada che mi ricorda un po' una katana. Mi ricorda Kill Bill. Niente, il nuovo inizio proprio all'insegna del... Uè, raga, la mia mente è brillante, astuta, arguta. Non ce n'è per nessuno. Quindi, un inizio anno all'insegna di grandi soddisfazioni. Nuovi inizi, innanzitutto. Ma grandi soddisfazioni dal punto di vista mentale, dal punto di vista dell'intelletto, dal punto di vista del lavoro. Del lavoro mentale. Siete, sarete molto chiari, molto comunicativi, molto determinati, seri, ma decisi in quello che farete. Quindi, un inizio anno veramente dedicato proprio appunto alla decisione, all'ambizione, al fare bene, all'essere chiari, anche all'essere disponibili. Quindi, cioè, non siete... l'acquario poi non è mai egoista, insomma, però... Insomma, ci siete. Siete belli presenti, belli piazzati. Avete voglia proprio di iniziare bene. Iniziare facendo i lavori bene. Mi viene in mente, quando io iniziavo scuola, mi piaceva avere i quaderni belli puliti, le penne, l'astuccio bello in ordine. Probabilmente con il tempo di passare dei mesi diventava tutto un rebelote. Ma c'è questo tipo di energia qua, in questa carta. Avete voglia proprio di iniziare il 2023, appunto, con gennaio e febbraio, dove sarete precisi, puntuali, anche un po' pignoli, forse. Questo è un po' un risvolto dell'acquario, ma mi piace tantissimo questo inizio, perché proprio è l'insegna della chiarezza, della determinazione, del fare bene le cose. Quindi, bene. E poi l'asso ci parla sempre, appunto, di energie rinnovate. Quindi, sarete anche pronti, forse riuscirete a riposarvi bene nelle vacanze di Natale e poi iniziare a divertirvi a Capodanno e iniziare molto bene l'anno. Quindi, insomma, mi fa piacere per voi. Vediamo come prosegue per gli amici dell'acquario questo 2023. E vabbè, ma allora, gli amanti, energia universale incredibile, siete abbracciati proprio dall'universo, proprio perché le vostre scelte sono belle, chiare, decise. Quindi, quello che vi torna indietro è bello, chiaro, deciso, ma intriso di amore. Mi fa molto piacere, ovviamente. Niente, se non siete in una relazione, potreste, tra marzo e aprile, trovare una persona con cui condividere i propri sentimenti. Però, ovviamente, la carta degli amanti ci parla di molto di più. Potrebbero essere anche nuove relazioni di amicizia, nuove relazioni sul lavoro, nuovo modo, anche se vogliamo, di vedere le relazioni interpersonali. Ovviamente, si parla di tutte cose belle, tutte cose in positivo. Cioè, io ho questi fiori che sbocciano enormi, li vedo proprio come un qualcosa di meraviglioso. Quindi, insomma, un'energia veramente proprio bella, bella, bella. Amate e siete riamati. Quindi, ripeto, se siete single, potrebbe esserci una persona che entrerà nella vostra vita. Se siete in coppia, potrebbero esserci rinnovamenti di amori, sentimenti. Magari vi sposerete, perché siete già fidanzati e quindi vi sposate. Non lo so, c'è questo tipo di energia, però. C'è un rinnovamento dei sentimenti. Wow! Per ora, ragazzi, che annuccio a questo 2023. Vediamo energie di maggio e giugno. Allora, due di spade. Ecco là, sembrava troppo bello, per essere vero. Allora, due di spade. Ancora una volta la mente. Non mi stupisce, perché comunque siete persone molto mentali. Detto ciò, qua c'è un qualcosa. Potrà esserci, diciamo. Emotivamente siete tranquilli, perché poi raramente qualcosa vi smuove. Però, che oddio, non è vero. Non è che raramente qualcosa vi smuove. Però, diciamo così, siete proprio concentrati in questi mesi, di maggio e giugno, sarete proprio concentrati sulla vostra testa. Per alcuni di voi ci sarà una decisione da prendere. Una decisione da prendere. Non sapete bene cosa fare. Vi sentite un po', appunto, con le mani legate. Per alcuni di voi, in realtà, sapete che decisione prendere, ma non vi piace tanto. Infatti avete gli occhi bendati. Io però, devo dire che in questa carta, ci vedo sempre delle opportunità. Perché? Innanzitutto, perché qui abbiamo una candela con la fiamma accesa. Quindi, attenzione. La speranza è l'ultima a morire, come si suol dire. E poi, per questo mazzo particolare, qui abbiamo Excalibur, infissa nella roccia. E chiunque estrarrà questa spada, sarà di diritto Red Inghilterra. Quindi, attenzione. Potrebbe essere una situazione che vi sembrerà più brutta di quella che è. Perché, in realtà, nel momento in cui aprite gli occhi e dite No, ma io sta spada adesso la estrago e mi porto a casa quello che mi devo portare a casa. Ok? Le spade, ricordiamoci sempre questa cosa, riguardano la nostra mente. La nostra mente, alle volte, non sempre fa dei filmini reali. Ok? Quindi, io qua ci vedo un po' di paturnia, ecco, diciamo così. Quando, in realtà, forse, se vogliamo, la scelta è molto semplice e potrebbe anche volgere a favore per voi. Quindi, ecco, questo è giusto che lo sappiate. Vediamola, questa scelta, a questo punto, tra agosto, luglio e agosto, scusate. Quindi, vediamo che tipo di scelta. Niente, ancora un asso, però sceglierete bene. Perché l'asso di coppe, a parte che, scusate, asso di spade e dopo sei mesi asso di coppe, c'è combo incredibile, mi piace tantissimo. Ma c'è un cambiamento in atto, fondamentalmente. Un cambiamento che, però, ragazzi, è il sacro graal, cioè avercene. Qui rinascete, vedete, questi siete voi, che come Venere, come la Venere dei Botticelli, che rinasce dalle acque, dalla spuma del mare, dalla conchiglia, voi rinascete da questo cambiamento in atto che non avrete voglia di, cioè non ci avete molta voglia di cambiare, ma il cambiamento poi si tradurrà in qualcosa di super positivo per voi. Qui, ancora una volta, c'è una rinascita, un cambiamento che può essere spirituale, emotivo, emozionale, di coppia, di relazione. Per le donne potrebbe essere anche una gravidanza, potrebbe essere un cambiamento che comunque vi arricchirà nel vostro essere donna. Per gli uomini, comunque, potrebbe essere veramente un cambiamento intimo, personale, veramente molto importante. Quello che mi piace tantissimo è che, normalmente, anche in questo mazzo c'è la colomba sul lasso di coppe. Quindi vi sentirete in pace. Questa, secondo me, è una di quelle cose per cui io metterei la firma a vita. Quindi, benissimo, perché qua inizierete veramente super determinati. Ma a metà anno, quindi a fine giugno e inizio di luglio, c'è ancora questa rinascita che vi vede ancora in un atto di cambiamento, ma in un atto di cambiamento decisamente favorevole per voi. Vediamo come prosegue questo anno con settembre e ottobre. Abbiamo un 3. Mi piace perché c'è 1, 2, 3. Vabbè, qui c'è ancora un altro asso perché rinnoverete ancora le energie. Però mi piace perché questi numeri ci parlano sempre comunque di un'evoluzione. Qui la cosa bella è che c'è un bellissimo lavoro di squadra qui. Quindi qui ci potrebbe essere proprio qualche collaborazione importante o qualche cosa che, a me viene da dire, risolverete qualche problema a qualcuno sul lavoro, qualche magagna, non lo so. Sarete on fire, come si dice in inglese. Guardate la ragazza con i capelli che prendono fuoco. Perché avrete talmente tanto da dare e sarete talmente bravi nel farlo. Che veramente la gente che vi guarderà cascherà ai vostri piedi. Cioè, a parte che, vabbè, l'acquario, scusate, come al solito sto perdendo la voce perché dico 8.000 cose. L'acquario è sicuramente un segno brillante, intelligente. Quindi la vostra intelligenza, secondo me, qui la utilizzerete al meglio. Cioè, c'è proprio questo tipo di uscita. Ovviamente qua c'è anche il benessere materiale, l'abbondanza. Abbiamo questo tre di pentacoli, questo lavoro che farete tra settembre e ottobre. Vi frutterà decisamente, insomma, non solo a livello, appunto, monetario, ma anche a livello proprio di stima da parte dei vostri colleghi. Che dire, fantastica energia, ancora una volta. Vediamo come si conclude. Il 2023, per i segni dell'acquario, abbiamo i mesi di novembre e dicembre. Abbiamo la regina di coppe, vabbè, ma che vedevo di... Niente, siete veramente carismatici, brillanti, anche emotivamente molto forti. Cioè, c'era... Allora, anche qui che c'è, se vogliamo, questa è una carta un pochino di maretta, di maretta mentale, però l'acqua è calma. Vedete? Quindi, qui ci vedo quest'anno come veramente un anno... Poi, abbiamo gli amanti, abbiamo l'asso di coppe, abbiamo la regina di coppe. Come se veramente i vostri sentimenti andassero a posto. Non lo so, come se finalmente capiste come relazionarvi con voi stessi, proprio se siete voi, e con gli altri. C'è un'energia ovviamente materna, c'è un'energia molto compassionevole, molto empatica, molto sensibile. E niente, io ci vedo proprio questa vostra empatia che vi farà brillare. Cioè, guardate tutte le stelle, vi farà brillare. Sarete super belli, super carismatici. Concluderete l'anno nella maniera, secondo me, emozionalmente più giusta per voi. E comunque grandi emozioni. Hanno di emozioni qua, eh, per questo acquario. Gli amanti, gli assi, queste energie rinnovate che sinceramente non possono che farvi bene. L'abbondanza. Bene, bene, mi fa molto piacere. Allora, vediamo l'energia chiave del 2023 per l'acquario. Questo è l'oracolo dell'universo astrale di Lara. Sono bellissime queste carte. Allora, vediamo l'energia chiave per l'acqua. Eh, vabbè. L'aria, spazio, respiro vitale, leggerezza, respiro cosmico. Questo respiro cosmico io in queste carte ce lo vedo proprio, specialmente nella combo di queste due carte. Questo respiro cosmico, cioè, proprio, è un'energia talmente bella che non ve la so neanche spiegare a parole. Come se veramente riusciste a connettervi con qualcosa di più grande di voi, in maniera divina. Cioè, in maniera veramente che vi fa star bene. Cioè, starete veramente bene quest'anno voi. Questo 2023, questi occhi che guardano sempre oltre. Wow, bello, 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 bello. Allora, vediamo la runa dell'anno per il segno dell'acquario. Runa dell'anno, ma questa già mi piace. Raido, carro. Viaggio, comunicazione, azione decisiva, riunione, progresso, cammino interiore, destino. Io queste cose ce le vedo tutte nel vostro percorso qua. Viaggio, comunicazione, azione decisiva. Riunione, riunione, progresso. Cammino interiore, quindi scelte, destino. Bellissimo. Io ce la vedo tutta questa energia. Il carro poi nei tarocchi è il guerriero vincitore, il guerriero vincente che fa il giro sul carro. Quindi ci vedo proprio questa energia attiva. Vediamo il mio oracolo d'autunno, The Halloween Oracle. Cosa ci dice? Quindi, segno dell'acquario. Segno dell'acquario nel 2023. Pioggia, purificare, purificazione. Io quest'acqua che è uscita fuori in tutte queste coppe ce la vedo proprio. L'acqua è uscita in tante carte. È uscita qua, abbiamo l'acqua. E inizia, è iniziata a uscire proprio nel momento in cui c'è un'azione, una scelta da intraprendere. Quindi, anche con la regina di coppe, io qua vi vedo in realtà purificati. Quindi sì, potrebbe essere l'anno, appunto, dello spazio respiro vitale, del respiro cosmico, anche della purificazione del cammino interiore. A due volte R, Raido, Rain. Rain, regina, va bene. Allora, vediamo l'amore per il segno dell'acquario, poi vediamo i vostri chance. Quindi, l'amore per l'acquario nel 2023. L'amore per l'acquario nel 2023. Oh! L'unione dei cuori. Un amore, una connessione d'amore non ha bisogno di spiegazioni. D'altronde, con la carta dei diamanti, va bene. Io penso che se siete single, questo potrebbe essere veramente l'anno dell'anima gemella. Bellissimo. Va bene, vado a spostare i vostri responsi degli oracoli per vedere i charms di questo acquario nel 2023. Quindi, segno dell'acquario nel 2023. Segno dell'acquario nel 2023. Segno dell'acquario nel 2023. Allora, è uscito l'amore puro, l'amore puro, genuino, innocente, incondizionato. È uscito subito, già da gennaio. Che poi porterete avanti sicuramente con diamanti, eccetera. Ci sono due lettere, una P e una M. Non so se le vedete. Sono molto piccole. Una P e una M. Le lettere, ovviamente, possono essere iniziali, di nomi, cose, le interpretate voi, insomma. Qua, sugli diamanti c'è tantissimo. C'è un viaggio che potreste intraprendere tra marzo e aprile. Potrebbe essere un viaggio d'amore a questo punto. C'è anche tanto divertimento. C'è il birillo. C'è, sì, una persona amica. Qualcuno che vi sostiene, vi supporta. Le chiavi, la conoscenza, l'apertura di porte. Quindi anche questo amore universale che, secondo me, vi farà raggiungere determinati posti magari mai visti finora. C'è anche la scarpetta di Cenerentola. Per alcuni potrebbe essere proprio l'amore da favola. Io, però, ci vedo sempre anche il benessere. Alla fine Cenerentola sposava un po' l'Igipe, insomma. Abbiamo una lettera C. Mi viene C di cuore, ma ovviamente siete voi che date i significati alle lettere. Sul 2 di spade è interessante che abbiamo una lettera K. Potrebbe essere un re, un re che magari vi aiuta, qualcuno da consultare nell'ambito di una scelta che non avete particolarmente voglia di prendere. Potrebbe essere un re, un padre, un amico, una figura che vi sostiene, vi supporta, con cui magari confidarvi. Ah, fantastico! Questo mi fa molto piacere. Tra l'asso di coppe e il 3 di denari è uscito il segno del cancro. Sono usciti comunque i segni d'acqua. Siccome io sono cancro e mio marito acquario, vabbè, un po' mi fa sorridere questa cosa. Però sì, qui potrebbe esserci anche una persona di un segno d'acqua o comunque del segno del cancro che vi aiuta, vi supporta. E poi la cosa bellissima è che abbiamo non solo la chiarezza tra novembre e dicembre, quindi con questa regina di coppe, la chiarezza più pura, ma ovviamente anche un diamante. Quindi anche il fatto di stare bene, di raccogliere, se vogliamo, anche i frutti di quello che è stato il vostro percorso nel 2023. Un anno veramente all'insegna delle emozioni, secondo me, delle belle emozioni. Un anno sicuramente all'insegna del cambiamento, ma è un buon cambiamento per voi, quindi mi fa molto piacere. Va bene, cari amici dell'acquario, io vi ringrazio per essere stati qua con me, spero che questo video vi sia stato utile. Niente, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!